E' un po' non mi mangiare Siamo mangiati una spirola da 8.000 Ma sa tu che c'è chi ti ha dato? Chi ti ha fatto mangiare? Ma poi, zio, se mi andate in un posto mi ha cagliato, eh? Ma che me ne ha metto io? Ma si fa pecchiacchierà, quanto sei stronzo? Mario! Tu vieni qua! Poi non è che dici se mi è nato? Mi ha portato qua al posto? Ma non mi vieni qua in cazzo a me dove sei nato! E' un po' non si può manco parlare Io te lo volevo dire tanto che vuoi andare a cena con i parenti Eh, pianta con tu questo! Gliatla diamo e poi ti dico io! Eh, te ci fai parlare! Eh, a me, mi pare la seca! Tu questo! Allora ci vanno portando sta spirola! Non mi frega che ti hanno portato! Non mi frega che ti modifici la piccola! Ma che fanno? Ci hanno portato la spirola, zio, no? Eh! Questo malvassoio? Eh! Dio caro! Comunque pecca palla! Dico come fanno? E invece è più una lana signorina, sì? Si è messa lì! Ma che ha anche il ricone il buon carcino! Viene le poste! Viene le poste! Viene le vestiti, caro! Di la cameriera! Si è messa lì, sì! Momente c'ha un boccatore! Mario! Eh sì! Tu avevi con quelle manine ce l'ha accapato! Tutte le spine da una parte! Ah, niente! Poi ce l'avevi messo a posto per riparare un'altra volta pesce! Vero! Mi chiedevo fare un centimetro, se! Eh! Come il cazzo? Ah! Pantipasto, Dio caro! Fanno dei cazzo! Guarda qua! Ma chi c'entrava? Ah! Ma dove me le sei maleducato? Ma con te se vuoi di niente? Ah! Tu che sei invidioso, no? No! Cazzo, non va a me! Invidioso? Ti dai, ti dai! Adesso io! Dozzi! Ah! Paguno! Dozzi! Tu! Zepponiamo il parente! Il parente da Eurici, porca! Eccolo! Dopo hai pevuto 4-5 bocce di vino, zi! Si è scordato! Si è scordato, Dio! Ci ha pensato più, pezzico! Ah! Ma ci hanno portato un antipasto, zi! Ostrighe! Lo mangiavo l'ostrighe! Mondiale, zi! Ma che è il meteo! E sta male che assomiglia all'ostriga! Sì, zi! È una cosa che ti piace parecchio a te! Eh, zi! È quello che vai a Pankuro! Dov'hai? Dov'hai? Dov'hai, zi! Oggi! 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 Come sono finite! Oggi! 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 Oggi!